cari amici di di pomeriggio bentornati a questo spazio che ormai è così caratterizzato dalla presenza del nostro uomo a milano e allora come ogni settimana do il benvenuto a simone zappacosta ciao simone i nostri occhi e le nostre orecchie nella città di milano ciao ciao barbara buon pomeriggio a tutti ciao simone allora come va intanto tutto bene ti sei asciugato dai grandi acquazzoni della scorsa settimana è stata una settimana abbastanza piovosa diciamo piovuto tutti i giorni sempre ecco insomma nonostante questo nonostante questo sei riuscito comunque a non rimanere in casa perché sei andato in giro come sempre e hai raccolto dei contenuti molto interessanti per i nostri telespettatori di di pomeriggio sì ho approfittato delle poche tregue che ci ha dato la pioggia per andare in giro a scoprire cosa succedeva in città che comunque pioggia o non pioggia qualcosa offre sempre in questo caso infatti c'è stato un festival che è durato tutta la settimana proprio che si chiama well cage è un festival ideato per la generazione zera e soprattutto per la cultura urbana un festival della cultura urbana dopo dove poteva farsi se non di fronte alla stazione centrale di milano di cui abbiamo parlato diversissime volte proprio questa stazione di milano la stazione la stazione centrale che è proprio sta diventando come dire il fulcro di tantissime attività artistiche che hanno ecco uno spirito un po d'avanguardia quindi la trovano evidentemente una location anche perché per il grande diciamo anche il tra grande traffico la grande presenza di persone passano tutti da là insomma alla fine e e c'è quindi questo well cage il fa questo festival che tra l'altro completamente gratuito si è si è chiuso proprio il sabato scorso sabato questo appena passato e si compone questo festival in realtà di tante eh di tante linee di attività sì c'erano tantissime attività appunto tutte collegate al mondo della generazione zeta e al mondo urban infatti come dicevamo è stata scelta la stazione centrale di milano come è posto perché è un po' il simbolo della cultura urban tra gli skate park che si sono creati nel tempo eh come dicevamo appunto è un incrocio di persone che vengono per turismo per lavoro è proprio il simbolo della cultura urban e ci sono stati diversi aspetti di questa cultura che venivano celebrati diciamo c'era la musica ma c'era anche lo sport perché c'erano delle gabbie le cage come si chiamano dove ti poteva praticare del basket o del calcio ecco nel frattempo la nostra regia mette le le immagini che ci hai gentilmente fornito e quindi ecco sì parliamo proprio di quello che hai visto no sì e oltre alla musica c'erano dei talk dedicati appunto alla generazione z quindi molto in centrale mondo della comunicazione del sol gestirli c'erano personaggi di spicco del mondo di tiktok i tiktokers proprio tra cui Alessia Lanza che è una delle influencer più importanti di del momento comunque degli ultimi anni che è uscita proprio fuori da tiktok e si affrontavano vari temi e argomenti tutti molto cari alla generazione z ai ragazzi poi finito questo c'era la parte tra l'altro ecco la generazione z tra l'altro ero eh stavo seguendo una trasmissione televisiva su una rete nazionale a un certo punto si parlava di gen z gen z gen z gen z cosa sarà questo gen z ecco è proprio la generazione z ormai cioè anche tutto il linguaggio della generazione z che bisogna imparare piano piano bisogna cominciare a a imparare a comprendere perché se no eh realmente eh il mondo va avanti noi restiamo indietro gen z bisogna entrarti per riuscire a comunicare anch'io sono fuori da gen z quindi roba da imparare per riuscire a restare dal passo comunque poi c'era la parte musicale come dicevamo che eh appunto ha visto personaggi come Mara Sattei eh il DJ set di Miles c'era il Raton con ex giudice di X Factor c'erano ogni sera diversi diversi tipi di musica ma comunque tutti incentrati un po' sulla cultura urban molto cara ai ragazzi certo tra l'altro c'era anche una mostra di street art c'era una mostra di street art c'erano dei workshop appunto oltre ai talk c'erano dei workshop sulla cultura urban quindi sul ballo sulla danza sullo sport c'erano delle lezioni appunto di basket c'era l'uno contro uno era un un po' a trecentosessanta gradi un festival tutto gratuito dedicato a ai ragazzi ai nostri ragazzi ecco devo dire che tra l'altro un festival eh così completamente dedicato a questo eh tipo di cultura la cultura urban eh completamente gratuito c'è anche da dire questo eh proprio il comune di Milano ha eh diciamo ha emanato un bando per eh per per realizzare questo questo festival a bando poi eh che eh proprio per animare il piazza Duca d'Aosta eh in maniera poi positiva animarla con i giovani ma c'erano i giovani? era pieno molto pieno c'erano ragazzi a tutte le ore perché il festival iniziava dal pomeriggio come diciamo con tutte le attività e poi si sviluppava la sera sul palco che hanno montato sempre l'impias Luca d'Aosta era pieno a tutte le ore poi sfruttando anche il fatto che la stazione è un luogo di passaggio quindi c'erano sia persone che erano arrivate apposta sia chi si è trovato davanti ci si è fermato non si poteva sbagliare proprio molto bene beh devo dire una grande eh una grande iniziativa poi seguita anche da grandi media perché c'era MTV insomma ehm insomma un un evento importante e tutto dedicato alla generazione Zeta ehm caro eh caro Simone però non solo di questo parleremo in questo in questa nostra o in questo nostro spazio che ricordiamo purtroppo è l'ultimo per questa stagione ma insomma noi ci rincontreremo sicuramente eh come vogliamo terminare ecco come li vogliamo salutare i nostri telespettatori so che c'hai una chicca in serbo sì li vogliamo salutare con un tema molto caro a me che sono qui a Milano e sono abruzzese perché un altro grande abruzzese che vive qui a Milano lui è un'agenzia di PR sta qui a Milano da tanto tempo ma come me è molto legato all'Abruzzo ha appena pubblicato un libro che si chiama D'amore e d'Abruzzo un libro proprio centrato completamente sull'amore per la nostra regione e sulla nostra regione lui è Faride Vitale che magari eh i telespettatori possono aver conosciuto per i programmi televisivi fatto con Vittoria Capello che sono viaggi fatti in Express ma comunque ha pubblicato un libro completamente incentrato sul suo amore per la nostra regione e io da fuorisede non posso che esserne contento che un po' quello che faccio anche io parlare di da fuori del mio abruzzo con tutti quanti. Ecco lui tra l'altro è insomma appunto ha lavorato con Vittoria Capello appunto in questo eh format in giro cos'era? Avventure in giro per il mondo no? Eh quindi eh ma non solo lui è è famoso appunto per le sue eh per perché ha un'agenzia importante molto seguito come PR anche sui social e e parla dell'Abruzzo come proprio un innamorato parlerebbe alla alla sua alla sua fidanzata nel senso che è proprio eh no nella dice anche no che non non capisce come mai eh l'Abruzzo che è secondo lui la regione più bella eh sia sia poi in realtà poco abbia una scarsa awareness eh quindi è proprio questa parola la awareness che manca all'Abruzzo che lui dice e noi sappiamo è la regione più bella del mondo ma a confermarlo lo dicono anche tutti quelli che passano da noi anche solo per una volta non smettono più di tornarci infatti questo libro come lui dice è un po' venuto fuori da tutte le richieste che gli venivano fatte da amici eh conoscenti che chiedevano consigli su cosa fare dove andare una volta già stato dove poter tornare e fare lui ha scritto questa guida che ovviamente non è esaustiva al cento per cento non è oggettiva ma è la sua personalissima guida dell'Abruzzo dove ci sono percorsi da fare posti bellissimi da vedere ristoranti cibi tradizioni è proprio l'amore di un abruzzese per il suo Abruzzo trasportato in un libro scritto a lettere in un libro ecco tra l'altro ecco è significativo proprio il sottotitolo del libro che è eh guida sentimentale alla regione più bella del mondo quindi lo dice tutto questo amore eh per l'Abruzzo tra l'altro volevo ricordare che il libro che è edito da Cairo Editore eh che è appunto nelle nelle librerie lui eh l'ha presentato a Milano ma sarà anche a in Abruzzo appunto e io ricorderei le date eh a pescare il 28 maggio all'Imago Museum eh Museum eh in Corso Vittorio Emanuele e sarà in compagnia di Natascia Stefanenko e all'Aquila il 30 maggio sempre alle ore 18 nella libreria Colacchi eh con Vittoria Cabello che lo accompagna in molte delle sue presentazioni. Sì in questa che è la presentazione di Milano c'era ovviamente Vittoria Cabello ed è stato molto eh simpatico vedere il dibattito tra i due perché hanno molti aneddoti da raccontare anche tra tutto sull'Abruzzo quindi eh è stato molto carino. Benissimo Simone allora io direi che siamo giunti proprio alla fine di questo appuntamento settimanale che tanto ci è piaciuto eh con il nostro uomo da Milano eh io ti ringrazio ringrazio per essere stato un attento osservatore è un simpatico commentatore di tutto ciò che eh appunto a Milano è avvenuto in questi mesi ce l'hai riportato ci hai fatto vivere proprio un po' fuori dalle mura eh grazie a voi è stato un piacere per me assolutamente grazie mille vi ringrazio grazie grazie Simone e allora eh nel lasciarci eh e poi torneremo chiaramente qui in studio io direi alla nostra regia di mandare proprio queste immagini relative al libro di Paride Vitale eh d'amore e d'Abruzzo eh guida sentimentale alla regione più bella del mondo io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.